Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano due chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma e rallentamenti in direzione Bologna. Sempre in A1 code ma a causa del traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Prato Oves e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In Fipilì a causa di lavori tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze, un chilometro di coda invece in direzione Livorno. Cantieri di Firenze oggi in orario 9.19 per un carico scarico rimarrà chiusa via Palmieri tra via dei Pandolfini e via Ghibellina. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!